Benvenuti a tutti. In questo incontro parleremo di dispersione scolastica, una problematica con cui ci confrontiamo quotidianamente come insegnanti. Io sono Maria Teodolinda Saturno e sono un'insegnante specializzata nelle attività di sostegno in servizio in un liceo artistico di Roma. Mi occupo anche di formazione dei docenti e in questa veste sono stata incaricata per condurre e progettare il corso in successo formativo che rientra nel piano di formazione triennale per i docenti previsto dal MIUR negli anni 2016-2019. Il corso come vedete è promosso dal liceo Gullace Scuola Polo della rete di formazione dell'ambito 5 di Roma e rientra in una delle priorità previste dal MIUR che è proprio le competenze per una scuola inclusiva, coesione sociale e prevenzione del disagio. In questa prima parte affronteremo il fenomeno della dispersione scolastica cercando di capire che cos'è, che cosa intende la letteratura scientifica oggi per dispersione scolastica e soprattutto di comprendere la natura multidimensionale del fenomeno. Come vedremo sono diversi fattori sia soggettivi che sociali che vanno ad interagire e in qualche modo determinano questo fenomeno. Ho creato per voi una sorta di mappa, una mappa per orientarci in questo fenomeno complesso, qual è la dispersione scolastica in Italia oggi. Ho cercato sostanzialmente di sintetizzare in maniera il più possibile organica ed esaustiva le informazioni provenienti dalla letteratura scientifica, dalle buone prassi e dalla normativa di riferimento. Nella convinzione che questa mappa possa essere un valido strumento di lavoro per i docenti e per chiunque voglia occuparsi di questo fenomeno, ho voluto rendere pubblico appunto questo intervento anche grazie alla collaborazione tecnica e non solo del team diversi tutti. Quindi sarà, come vedete, disponibile con la licenza Creative Common, attribuzione senza scopi di lucro, usa allo stesso modo. Bene, io direi che possiamo cominciare. In questa prima parte dell'intervento vedremo cosa si intenda per dispersione scolastica oggi secondo la letteratura scientifica. Cercheremo di capire anche la natura multidimensionale del fenomeno e la necessità di un approccio sistemico e di rete. Vedremo poi quali sono i fattori di rischio dell'insuccesso sia soggettivi che contestuali e fra i fattori contestuali cercheremo di saper riconoscere quelli familiari, quelli sociali e quelli scolastici. Bene, iniziamo subito con la nostra domanda cruciale. Che cos'è l'insuccesso formativo? O meglio, che cosa si intenda per dispersione scolastica oggi? Questa domanda naturalmente che rappresenta un po' il cuore del problema ci apre, ci permette diciamo di aprire una parentesi su come si è cambiato lo studio di questo fenomeno e quindi è un fenomeno già oggetto di studio a partire dagli anni 50. All'epoca si parlava più che altro di mortalità scolastica. Verso la metà degli anni 80 questo termine è stato sostituito con il termine di dispersione scolastica, un termine sicuramente meno drammatico se vogliamo, ma nello stesso tempo che ci dà un'idea dei diversi aspetti del fenomeno e quindi della sua natura multidimensionale. E infatti se noi andiamo a vedere oggi che cosa si intenda, che cosa la letteratura scientifica intenda, per dispersione scolastica abbiamo sicuramente per esempio i mancati ingressi. Pensiamo per esempio ai bambini rom che non entrano proprio a far parte del sistema scolastico. Abbiamo l'evasione dall'obbligo scolastico, abbiamo visto nelle lezioni in presenza la differenza fra l'obbligo formativo e l'obbligo di istruzione. Nel momento in cui abbiamo un abbandono, questo allontanamento dalla scuola avviene una volta che si è espletato l'obbligo scolastico o di istruzione. Si parla invece di evasione nel momento in cui non è stato espletato l'obbligo. Abbiamo il proscioglimento dall'obbligo senza il conseguimento del titolo. Ma anche le ripetenze rientrano in quello che è il fenomeno della dispersione scolastica, così come frequenze irregolari oppure ritardi rispetto all'età regolare. Una successione di ripetenze nel corso degli studi può portare a dei ritardi rispetto all'età regolare. Un bambino, un ragazzo immigrato che viene introdotto in una classe inferiore o in una, due, tre classi inferiori alla sua età evolutiva naturalmente si trova in una condizione di ritardo rispetto all'età regolare. Abbiamo anche l'assolvimento formale dell'obbligo. Il raggiungimento di un titolo di studio congruo, addirittura oltre quello che è l'obbligo di istruzione o formativo, ma è un assolvimento formale. Cioè questo percorso scolastico è un percorso poco significativo. Oppure una qualità scadente degli esiti. Magari un titolo anche con una votazione non proprio scarsa, ma che comunque porta ad una qualità della formazione scadente. Quindi vediamo che man mano la letteratura scientifica valuta e considera proprio la multidimensionalità del fenomeno. Probabilmente la stessa natura multidimensionale del fenomeno ha reso più complesso avere un quadro unitario di questo. Sono tantissimi gli studi, tantissimi dati a nostra disposizione, tante anche le buone prassi, ma è difficile che queste siano organizzate in un quadro unitario e questo in qualche modo nel mio piccolo è stato il mio intento, il mio sforzo. Attualmente gli studi indicano come fattori predittivi dell'insuccesso formativo sia fattori di natura soggettiva che di natura sociale. Allora vediamo un attimo quali sono i fattori di natura soggettiva. In Italia, ma anche in Europa, anche se con una percentuale maggiore in Italia, abbiamo una maggiore incidenza del sesso maschile. Quindi sono più i ragazzi e i bambini che sembrerebbero predisposti a rischi di insuccesso formativo. Vi è inoltre una maggiore incidenza di quelli che oggi vengono chiamati gli alunni con bisogni educativi speciali. Quindi sia alunni con disabilità certificata secondo la legge 104, sia alunni con un disturbo specifico dell'apprendimento secondo la legge 170 del 2010, sia alunni che hanno altri disturbi evolutivi. Può essere un disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, o altro, ed alunni invece senza alcun tipo di disturbo, ma con degli svantaggi a livello socio-culturale o linguistico tali da rendere difficile il percorso di apprendimento, comunque un percorso ad ostacoli. Allora, ovviamente per questi bambini e ragazzi vi è una maggiore incidenza di insuccesso scolastico. Vi sono poi, sempre nei fattori soggettivi, in particolare dei vissuti di disagio che possono sfavorire il successo. Si è visto che sono in particolare le storie di emigrazione, quindi parliamo soprattutto di bambini e ragazzi provenienti da famiglie di migranti, e quindi migranti loro stessi o di seconda generazione, che soffrono di situazioni particolarmente traumatiche. Vi sono poi delle dinamiche che possono rientrare più in aspetti, diciamo, di natura psicologica, che possono portare il soggetto, quindi il bambino o l'adolescente, a fenomeni di autoemarginazione e di disadattamento personale. Fra questi abbiamo alunni con una scarsa autostima o deboli dal punto di vista della propria autodifesa che possono diventare vittime o loro stessi bulli. Quindi qui si aprirebbe tutta una parentesi che non affronteremo in maniera specifica perché ci vorrebbe un corso a sé, però vi darò sicuramente dei materiali e dei riferimenti bibliografici, sitografici, videografici, per approfondire qualora vi servisse l'argomento. Quindi abbiamo detto i fattori predittivi del rischio, i fattori soggettivi. Nei fattori sociali abbiamo individuato, sempre secondo le ricerche, l'aspetto riguardante naturalmente il contesto sociale, quindi l'ambiente, il territorio di provenienza dove questi alunni vivono e in particolare nelle ricerche si è visto che nelle regioni meridionali e nelle zone degradate di alcune città vi sono tassi di insuccesso addirittura a cominciare dalla scuola primaria. Un altro aspetto e fattore predittivo è lo scollamento e l'emarginazione del soggetto ma anche spesso della famiglia dalla realtà sociale, dalla realtà sociale extrascolastica, quindi pochi rapporti, una rete povera di rapporti sociali che naturalmente non favoriscono il successo formativo. Quindi oltre a queste situazioni di scollamento o di emarginazione vera e propria sociale, quindi situazioni di marginalità, possiamo avere situazioni di eclatante devianza e anche questo ovviamente non favorisce certo il successo formativo. Nei fattori sociali, come vedete, abbiamo il contesto sociale che è quello diciamo in qualche modo più allargato, il contesto familiare che invece è quello più vicino al bambino o all'adolescente. Le ricerche ci dicono che le famiglie a maggior svantaggio sociale, spesso anche economico, linguistico e culturale, sono le famiglie in cui i figli sono più predisposti all'insuccesso. Un altro fattore predittivo è un basso titolo di studio da parte dei genitori o comunque un patrimonio culturale povero, che spesso coincide anche con una non considerazione del percorso formativo come di un fattore diciamo importante per la crescita sociale e personale del soggetto. quindi è chiaro che se c'è un disvalore rispetto alla scuola, il bambino o l'adolescente non possono che aver recepito in qualche modo questa concezione. Inoltre problemi legati diciamo ai vissuti familiari, in particolare problemi di separazione del nucleo familiare e di migrazione. Prima di affrontare quelli che sono i fattori di rischio all'interno della scuola, su cui in qualche modo possiamo agire più direttamente come insegnanti, mi premeva darvi un quadro d'insieme, perché l'ottica con cui viene affrontato questo fenomeno multidimensionale oggi è proprio un'ottica chiamata ecologico-sistemica. Questo sta a significare che se noi guardiamo nell'insieme il quadro, vedremo che ci sono sicuramente dei fattori soggettivi individuali che abbiamo visto, ma che il soggetto comunque si muove all'interno di un contesto familiare, e quindi l'interazione del soggetto con il contesto familiare è sicuramente importante e significativa e può produrre o meno successo o insuccesso formativo. Ma c'è un contesto ancora più allargato che è quello sociale, quello in cui si muove, diciamo, il bambino o il ragazzo, il nostro adolescente nel tempo, diciamo, extrascolastico. E naturalmente anche il contesto scolastico interagisce e quindi può favorire o meno il successo o l'insuccesso formativo. Quindi quest'ottica che ci fa vedere proprio le interazioni fra le varie dimensioni e ci fa capire quanto anche i contesti possono influire, e determinare il successo di un bambino o di un ragazzo. Andiamoci a vedere adesso il contesto scolastico. Nel fattore sociale contesto scolastico andrà considerato sia il contesto scolastico attuale, quindi in cui noi ci troviamo anche ad agire, ma non dobbiamo perdere di vista anche il vissuto scolastico dell'alunno e quindi il contesto scolastico precedente. Quindi ricevere informazioni e quindi la continuità verticale su cui poi ritorneremo più ampiamente è importante proprio per capire, per esempio, se ci sono situazioni di irregolarità nella carriera scolastica che potrebbero farci un pochino attenzionare la situazione. Oppure esperienze di abbandono precoce, perché si è visto che quanto più è precoce l'abbandono, tanto più diventa difficile il reinserimento nell'ambito scolastico. O per esempio vissuti di disistima legati alle proprie capacità di apprendimento, o vissuti emotivo-relazionali negativi rispetto al contesto classe o nella relazione con i docenti, con gli insegnanti o col personale della scuola. Tutto questo potrebbe favorire poi l'accumulo di lacune significative magari in alcuni ambiti disciplinari o in maniera indifferenziata. Analizziamo un pochino quello che è il contesto attuale e quindi la realtà in cui noi operiamo e vediamo quali aspetti di questa realtà andrebbero cambiati, modificati, perché non favoriscono il successo scolastico. Allora, a livello proprio di sistema scolastico, noi abbiamo un sistema scolastico a volte un po' rigido che non pone la dovuta attenzione agli interessi e alle esperienze degli studenti e quindi permette poco anche l'emersione di attitudini e addirittura la cura di veri e propri talenti o di eccellenze. Un altro aspetto importante è l'eccessivo nozionismo e la rigidità delle materie che non ci consentono di lavorare su percorsi interdisciplinari e che ci permettono quindi un'integrazione dei saperi e quindi un approccio al sapere appunto meno rigido e per compartimenti stagno. La permanenza di un atteggiamento selettivo, questo abbiamo ben visto nel nostro primo incontro in presenza questo escursus proprio evolutivo del sistema scolastico in Italia e abbiamo visto quanto questo atteggiamento selettivo permanga soprattutto negli ordini di studi superiori fino appunto all'università. Questo atteggiamento non è positivo volendo contrastare l'insuccesso formativo. Anche alcuni stili comunicativi e modalità didattiche possono rilevarsi inadeguati e su questo incentreremo i nostri incontri laboratoriali in presenza proprio perché sono in qualche modo il nucleo del nostro agire come insegnanti. Anche attività di orientamento poco efficaci o insufficienti possono favorire l'insuccesso scolastico. Questo avviene soprattutto nei primi anni della secondaria in cui magari i ragazzi nel primo anno si rendono conto magari di aver fatto una scelta affrettata non idonea a quelle che magari sono le proprie attitudini, le proprie aspirazioni eccetera. Quindi significa magari perdere degli anni con delle ripetenze o dei debiti eccetera o dei passaggi, dei trasferimenti che sicuramente rendono il percorso meno fluido e soprattutto possono generare vissuti di disistima, vissuti di insuccesso che segnano in qualche modo l'esperienza dell'alunno e che poi non è sempre facile recuperare. Possono essere anche delle esperienze molto traumatiche per i nostri ragazzi in un'età tra l'altro delicata come quella o il passaggio fra la preadolescenza e l'adolescenza. Quindi queste attività di orientamento sono importanti. La modalità di valutazione è anche un aspetto molto importante ed è inadeguato quando si basa un pochino sulla media statistica e quindi su procedure standard, quindi una valutazione che non è formativa. A volte non è tanto importante il voto, l'esito in sé per sé. Sicuramente ognuno di voi avrà fatto esperienza magari di otto dati con disprezzo, con indifferenza e magari sei invece che sono l'esito costruttivo, stimolante di un percorso magari anche difficile ma che comunque vengono dati con soddisfazione perché sei riuscito a raggiungere quello che era il tuo obiettivo e l'obiettivo dell'insegnante, quindi un obiettivo condiviso che indica stima, rispetto. Allora non solo quindi questa valutazione legata su procedure standard ma anche la modalità comunicativa e qui diciamo rientriamo un pochino sullo stile comunicativo dell'insegnante. Inoltre la scarsa integrazione fra le conoscenze e i saperi appresi a scuola e quelli poi utili nel mondo del lavoro. Su questo ci sarebbe anche da discutere perché perlomeno io non condivido pienamente il fatto che le conoscenze apprese a scuola debbano essere esclusivamente funzionali poi all'inserimento nel mondo del lavoro. Però sicuramente immaginare uno stacco eccessivo è negativo. Una scarsa comunicazione fra scuola e altre scuole, quindi del territorio o di ordini diversi, fra scuola e famiglie, fra scuola e altri enti, istituzioni locali. Perché appunto abbiamo visto essendo un fenomeno multidimensionale è importante anche un approccio di rete. Quindi è fondamentale questa comunicazione, questo fare rete, sia in verticale e poi vedremo sia in orizzontale. Lo vedremo meglio successivamente. La scarsa stabilità e continuità dei docenti in qualche modo non dipende da noi, dipende da un sistema, però sicuramente non favorisce il successo formativo, così come la scarsa formazione specifica per gli insegnanti. A questo si sta cercando di ovviare anche con questa formazione obbligatoria prevista appunto dal MIUR, su cui abbiamo avuto modo di parlare proprio nel primo incontro in presenza. E in generale la complessiva articolazione degli studi, soprattutto degli studi superiori e ancora più degli studi universitari. Quindi questo però è più un fattore appunto di sistema. Bene, dopo aver analizzato tutti i fattori di rischio del contesto scolastico attuale e anche del vissuto scolastico, direi che siamo a buon punto del nostro percorso. Quindi abbiamo visto in qualche modo e analizzato questo aspetto della nostra mappa di riferimento sull'insuccesso formativo, direi che ci possiamo concedere una pausa e rimandare, diciamo, ad una seconda parte il resto del nostro discorso. Quindi ciao a tutti e grazie per l'attenzione.